Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento questo van 599 della Mobilvetta, il nuovissimo van della Mobilvetta. Vedete un po' le caratteristiche proprio di finitura, quello che vi voglio vedere è l'abitabilità, far vedere la finitura. Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche di questo camper, cliccate nella vostra destra in alto e vedrete tutto quello che è questo camper. Qui zanzariera, qui l'appoggio per il tavolo per poterlo mettere fuori e quindi usarne uno solo. Una caratteristica particolare di questo van è questo mobile che scorre e in questo caso che si allunga in questo modo, quindi diventa un bel piano d'appoggio, un bel lavandino e poi i due fuochi. Quindi questo è il pensile della cucina e questi sono tutti i bei cassetti molto profondi. Qua il frigorifero, eccolo qua, e sotto l'armadio. Guardate la finitura di questi pensili, qui c'è un bel pensile molto profondo e questa bella finitura che gira tutto bene intorno. Le due finestre posteriori apribile e una finestra laterale sinistra apribile. L'appoggio, eccomi qua, questa è plastica, scusate le scarpe, però come vedete ci sto bene perché sono un metro e ottanta e mi ci giro senza problemi. Oblò, quindi c'è un bello scambio d'aria, oblò, finestra, finestra, finestra e poi guardate veramente questa finitura. E anche questi piccoli cassetti sono sempre comodi. Come vedete l'appoggio rendono veramente un sonno super tranquillo. Ora, essendo il materasso tutto in plastica unito, ho dovuto metterlo fuori, però quando è separato questo movimento è possibile farlo. Guardate, eccolo qua, quindi avere tutto questo accesso, poi questa parte scorre, vedete, ha un movimento così, sia quello sotto e quello sotto, quindi viene tutto lungo. E questo è il bagno, il water, quindi come vedete ci sto anche bene, la sua finestra, un bel funghetto di aria, il lavello, eccomi qua. Bello profondo, una bella vasca, bella profonda. E poi, e poi con questo semplice movimento, mi faccio la doccia. Quindi guardate, me la faccio tranquillamente senza problemi. Il funghetto mi porta via tutti i vapori. La zona giorno, uno, due, tre, quattro, un bel piano d'appoggio, poi la prolunga per poter anche avere un appoggio in più per la persona qua. Quindi vi aspettiamo per farvi vedere questo bel Mobile Veta Admiral e tanti altri van profilati e motorhome nuovi e usati. O a ottimi prezzi da un'azienda a soldi come la Caravan Baci. Ciao! Ciao!